Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo update e in questo update volevo dirvi come potete vedere con le immagini che inizierò il let's play di San Antonio 3 ok, permetto che non ho mai giocato a questo gioco ma però ho giocato all'uno e ho visto alcuni video su di questo però non ricordo assolutamente niente eh, si vabbè ora l'ho installato e penso che sia un bel gioco aggiudicato, uno spazio di 5 gigabyte che si prende nell'artiste quindi niente ragazzi, questo update volevo dirvi solo questo scusate se carico in ritardo alcune parti solo che adesso di Pasqua vorrei potermi un po' dire le vacanze comunque inizierò il Salente 3 appunto proprio per Pasqua una specie di, non lo so proprio per Pasqua inizierò il salente 3 niente ragazzi questo cortissimo update finisce qui e ci vediamo nel prossimo video che farò pensi che sarà quello di Salente 3 per adesso non caricoro altre parti lo farò in tempo reale c'è il registro e poi carico tempo reale si può chiamare così non registro tutto il tempo carico perchè se non ci starei un po' tempo così anche c'è un po' di realizzazione delle cose e comunque ragazzi ci vediamo nel prossimo video eh, saluti e buon passo a tutti ciao